Ne avevamo già parlato il mese scorso e torniamo a farlo anche oggi. Si tratta del cedimento del manto stradale di via Cechevara-Favara, in merito al quale cresce la preoccupazione dei cittadini. Questa mattina, in seguito alla richiesta da parte dei residenti, una troupe di Sicilia TV ha effettuato nuovamente un sopralluogo, constatando come il manto stradale crollato, a distanza di poco più di un mese si sia allargato fino a raggiungere quasi la porta di ingresso di una abitazione. La situazione, secondo quanto riferitoci dai cittadini, è sensibilmente peggiorata dopo la bomba d'acqua di domenica scorsa. Gli stessi ci hanno anche riportato dei supporti visivi registrati proprio durante l'acquazzone. Guardandoli sarebbe facile scambiare via Cechevara per un fiume in piena. Acqua e detriti, scendendo sulla strada e passando intorno agli edifici, sono andati riversandosi fino alle vie sottostanti. Fino a questa mattina era inoltre possibile ammirare uno dei blocchi che fanno da barriera per delimitare l'aria franata, essere franato esso stesso nell'aria sottostante alla strada. Il blocco, probabilmente trascinato dall'acqua, è passato attraverso un ampio buco venutosi a creare tra il guardrail e là dove ci dovrebbe essere la strada. Il timore manifestato dai cittadini riguarda soprattutto le proprie abitazioni e i danni strutturali che queste potrebbero subire se non si interviene tempestivamente per ripristinare l'aria. Lo ripetiamo con le loro stesse parole, qui può seriamente scapparci il morto. Non si tratta dunque di soli problemi alla viabilità che pure sussistono, ma della incolumità degli stessi residenti che ci riferiscono di essersi più volte rivolti al comune e alla protezione civile. Paura, è questo lo stato d'animo dei cittadini per una situazione che, se è peggiorata solo con un acquazzone di media intensità in pieno periodo estivo, rischia di intensificarsi ulteriormente con le prime piogge della stagione autunnale. La pioggia di domenica scorsa ha fatto paura a tutti, quindi sempre si allarga di più e noi non sappiamo più a chi rivolgerci o pensiamo che deve scappare molto per poi fare delle fiaccolate come al solito si usa a Favara, oppure dite, ce lo devono dire loro a chi ci dobbiamo rivolgere, andiamo al prefetto, andiamo dai carabinieri, non lo so io cosa bisogna fare. È un pericolo per la nostra casa perché abita mia socia già disabile, quindi se succede qualcosa dobbiamo scappare subito subito, quindi dovremmo risolvere il problema al più presto. Prima della stagione della pioggia, come ripeto, domenica scorsa abbiamo avuto paura perché c'è stata una pioggia delle bombe d'acqua praticamente che abbiamo avuto paura veramente sul serio, quindi se dovevamo scappare con mia socia era disabile non potevamo andare dalla nostra parte, quindi sicuramente che ci scoppierà il morto. Dopo il morto poi facciamo le fiaccolate come al solito si usa a Favara. Noi ci siamo rivolti al comune più di una volta, anche alla protezione civile e non ci hanno dato risposte. Il comune ci ha detto quando è venuto a seggerare la volta scorsa, ci ha detto che già stanno dando l'appalto, ma dopo un mese o più ancora non si è visto nulla. Sulla questione era intervenuto in merito lo scorso mese l'assessore lavori pubblici al comune di Favara ingegnere Amodeo Nicotra. Lo stesso spiegava come in via Cechevara occorre ripristinare un muro di sostegno e sistemare la sagomatura stradale e il drenaggio dell'acqua. Per questi lavori, puntualizzava Nicotra, si aspettava che l'ANAS validasse una convenzione con il comune per poter usufruire dei fondi necessari a finanziarli. A proposito, chiediamo pubblicamente all'assessore Nicotra a che punto è giunta la validazione di questa convenzione. L'auspicio è che si disbrighino al più presto i tempi burocratici per la messa in sicurezza del manto stradale di via Cechevara. Occorre tempestività, ne va a dell'incolumità, lo ripetiamo ancora una volta, dei cittadini.